Salve la gente, vi giupi e benvenuti nella seconda parte della mia bellissima casa La scorsa volta abbiamo fatto questo coso che sembra un bar Qui possiamo aprire e andare dentro dei cosi Oh che belli! E' infatti proprio belli i lavandini Comunque continuiamo la nostra cosa Che dobbiamo fare? Allora facciamo così Per essere sempre sicuri che non entri nessuno Niente, facciamo una porta normale Questa qui va bene Ah! Oh mio quanto è bella! Poi per gli ospiti speciali appunto io voglio ospiti speciali a casa mia Niente ospiti non speciali Appunto Vabbè lo vorrei qualcuno Io lo accudirò Con un bel tappeto rosso Fa schifo Ci mi serve una staccionata Oh! Ok Ok, sembra abbastanza bella Poi Volevo fare una cosa Che tipo Aspè mi servono quei gancelletti Eccoli qua Mi serve una cosa tipo così Tipo ecco Una doppia cosa Ecco Ecco, ecco, ecco Ecco, 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 ecco Poi per non essere colpiti dai planton De planton Oh, bebo una idea Dovevo fare una lana blu Ok No, che carino Così è bobo di classe Ecco, ecco, ecco Ah, che sei? Che sei? Brutto Vieni qua Vieni qua Bel bambino Spermi qui La bella spadina In diamantino Vieni qui Vieni Vieni Vieni, per carino Vieni Fermola C'è la zombie Vieni Vieni Ti picchia Vieni qua Brutto Ma chi sei? Ehi Fermo Torna qui Potere di gocor Torna qui No Torna qui Non puoi chiudermi Torna qui Torna qui No No No, 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 no Spaccare niente No, ti sparco io Ma perché non ci va niente? Aspetta Mi è venuta un'idea Ehi Calmo Vieni qui Ti chiudo fuori Erobrine ha vinto ancora Ma chi era poi quel tizio? Voleva i miei diamanti? Ma io se ne le lascio Altrimenti non se ne andrà mai Allora 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 Zitti 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 Allora Non so dove è andato Però Entriamo Vediamo di Vediamo di Vediamo di Vediamo di Vediamo Sì No Non venire Qui non ci dite Non si è accorto Vai via Non tornare Non tornare Zitti zitti Facciamo così Allora Prendiamo questo E' una C'è la forma di queste Non se Se n'è andato Si E' abbastanza E' lontano Aspetta una barriera di ossidiana Bravo quel bambino Che non sa io che cosa gli sto preparando Dov'eramo Mi sto spaccando tutto il pavimento Per trovare una cosa che avevo fatto Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per te, sono per te. Vieni, bambino che si chiama Video78, a quanto pare. Vieni, ti devo mostrare una cosa molto carina. Ti ho fatto una casa sotto la mia. Vuoi venire? Vuoi venire? Vieni, provoci solo, vieni. Vieni, appena senti una cosa di pericolo, torni in casa tua. Ti va bene? Vieni, vieni, vieni. Una sorpresa per te. Vieni, posso le armi. Vieni. Vieni, andiamo. Ho piazzato, per sbaglio, una piattaforma, questa qua. Per sbaglio, per sbaglio. Vieni. Vieni, vieni. Ti preoccupa. Puoi andare sotto? Scusa, puoi andare sotto qua? Per favore. Ho un guidarmi diamanti. Ok. No, no, fermo. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Mettiti qua sotto. Qua sopra. Qua sopra, qua sopra. Non ti preoccupare per i rumori. Non ci stanno mob quelli là fuori. Mettiti sopra. Mettiti sopra. Volevo dire qua, mettiti qua. Vai. Dai, vide. Ti ridò i 55 diamanti. Tieni. Oh, aspetta. Te ne do molti di più. Te ne do 63. Aspetta, arrivano, arrivano. ecco ma te ne avevo dati vabbè scusa mettiti qua dai mettiti vabbè metti i blocchi però mettiti soltanto qua qua sopra dai vai ehi dai ma non è niente vid 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 vai è una casa sotterranea tutta per te non c'è acqua e ne lava metti dai ehi metti vedi non c'è niente sotto questa cosa basta che metti solo qui entra l'ho intrappolato spero che l'ho intrappolato no è chiusa ho intrappolato sto bambino e vai è sotto starà bruciando si ragazzi ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta abbiamo imprigionato un bambino che non so chi era non però mi sento un po' il compito in colpa vado aiutarlo cosa vid sei stato tu torna qui vedi che ho la pozione di visione notturna non mi scappi mi hai scavato una fossa sotto adesso come è pronto ripagarla no 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 il mio bel terreno bello solido dove stai andando torna qui no il mio bel parcheggio no no fermiamo la fonte fermiamo la fonte fermiamola fermiamola la fonte si è asciugato tutto no vid vid che vuoi fare no e ciao 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 crovid no quel secchio di lava posalo che ce l'ho anch'io guarda che faccio la tua adorata casa se tu la definisci una casa lo piazzo vuoi che non lo piazzi vabbè vid l'hai voluto tu ah ok l'hai voluto tu mi c'è ma che fai ma che fai vid sto dizio è pazzo rimane scappo dentro casa ciao alla prossima vid 78 anzi vid brida 28 ha fatto pure la rinetta vediamo un po' che cosa possiamo fare per impaurire vid voglio fare una cosa molto strana che lui definirà se lui è così abile allora voglio testarla la sua abilità voglio fare una cosa tipo dentro lui deve stare qua dentro e deve cercare di di sopravvivere perché io ci metterò dentro molti mob lui deve sopravvivere a tutti questi mob quindi gli lascio un vardo per entrare ma dopo non lo faccio più uscire non lo faccio più uscire non lo faccio più uscire se mi piazza un blocco di lava è morto è morto vid 78 non esiste più allora zitti zitti perché voglio fare uno scherzo a questo signore a questo zio ok qui pieno di mob pieno zippo pieno zippo oh tipo scappare oh ma scappa muori morite nessuno deve stare in casa mia ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ti preoccupare, Vid. Ti troverai. Una bella sorpresa. Oh, mio caro Vid. Il tuo piano è fallito. No, no, Vid. No, no, tizio. No, no, tizio. Tizio. Non lo fare. No, non lo fare. Ho già tappato la fonte. Sei bravo. Sei completamente un campione. Vid. Oh, leva, leva ste cosi. Belviduccio. Cos'è che faccia la tua casa? L'ha inzetto di là. Aia. Di là va. Ecco. Vedi cosa succede? Quando ti metti contro il pepino. Ah. Che bello. Il sapore di vittoria. E ti metto pure alcuni zombie. Zombie, 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 zombie. E, 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 e. Scappo via. Si sarà infuriato un casino. No, ho piazzato uno zombie. Ah, 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 ah. No, sono uno scemo. Ho piazzato uno. Ho piazzato uno zombie. Mannaggia, Vid. Adesso. Mannaggia. Cioè. Dovrà fare una cosa enorme per tappare tutta quella lava. Ora farmi esplodere tutta la casa, ma. Ma. Ma, 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 ma. Il giupino lo fermerà. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Se volete vedere come continua la lotta fra me e Vid. Credo che lui ora si vorrebbe vendicare. No, si vendica. Sta facendo qualcosa. È vicino proprio la mia base. Quindi è un po' arrabbiato con me. Se la farà proprio sotto quando vedrà quella che sto facendo in casa mia. Oi, ma vuole un golem. Ha fatto un golem per distruggere i miei zombie. Oh, oh, oh. Oh, mio caro Vid. Non sai quello che stai, che sta per accadere. Oh, 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 oh. Presto sarai colto da una spiacevolissima sorpresa. Ma proprio speciale. Solo per te, mio caro Vid. 78. Ho generato di scheletro. No. Anzi, qualcosa di meglio. Ho generato di pesce palla. Ho generato di bucature. Oh, 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 oh. Oh, mio caro Vid. Sarei così sorpreso. Oh. Il costo di l'immortalità. Uh, uh, uh. Vid, caro. Che stai facendo? Ah, tappi il disastro? Neh. Tappi il disastro. Ma ho visto che hai piantato dei... dei... dei golem. Dei golem. Carini. E io ti metto un evocatore. Evocation. Sei proprio bravo. Neh. Può prendere un fuoco. Ti ho messo un evocatore. Questo golem... Te lo spacco. E anche questo golem... Te lo riempio di lava. Ho ucciso un tuo golem. E ti ho messo un evocatore. Così ti uccido. molto più di pari. Ah. Sto per finire... Nella tua buzza di lava. Poi ho ucciso finito. Ma dov'è... Ma dov'è... Lui? È dentro casa mia. Potreste scommettere? Dov'è quello? Brutto. Bambino. Scheletri nell'armadio. Sta mettendo degli scheletri allora. I suoi golem mi sembrano... Wither? Ma hai spavolato un Wither! Te lo ammazzo io. Vieni qua. Wither skeleton. Non ho mai attaccato Wither skeleton. No. Torna qui. Ma sei pazzo! Pure dei ghast! Ma... 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 Sta'è pazzo sto tizio. No. No. No ti prego. Ti pago. Prego. No ti prego. bec ok. Becca le Wither promettower. Beccale Wither! Mariah! Beccale Wither! Beccale Wither! Beh molto in alto Mi occupo dei ghast Muori Dai Dai che non è così tanto difficile Quasi amici Ma dove è andato il Wither E chi sono quelli Guardare me Dove sono i ghast Ghaster Mannaccia Ma dove sta andando quel brutto Wither Dove ho il tuffo più grande di Minecraft Ah lui Anche lui è morto Eccolo E' come quel Wither Ne Vuoi il mondo intero Ocidiamo Ehi Ragazzi Buongiorno Buongiorno Grazie a tutti No, moca Giuseppina Grazie a tutti Grazie a tutti Dai ragazzi Ce la possiamo fare Sto guider Deve morire Oh dai Muori, muori brutto guider Dai Ragazzi è quasi morto Muori, muori Muori, 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 ragazzi Dai sto quasi per morire Muori, 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 mu me lo merito accendi non mi importa anche se ci ho messo molta fatica per farla e anche per costruirla anche se è ucciso un Wither Skeleton tieni la sua cosa la sua nether sarma la TNT no ma non ti preoccupare faccio così guarda ecco qua buttata no non ti preoccupare vid attiva pure la TNT attiva la pure mi costruisco una nuova casa qua sotto tappa tappa ma accendila pure la TNT anzi la accenderò io voglio accenderla io me lo merito ma è proprio circondato ah proprio circondato la TNT beh è giunto il momento accendino è giunto il momento di abbandonare di abbandonare l'era accenderò la TNT e vedremo che botto farà uno due tre accendi ma ci sta e comunque ragazzi per questo video è tutto ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao